La Sicilia anticipa i saldi invernali che partono oggi. Nell'arresto d'Italia il via alla scontistica partirà sabato 5 gennaio alla vigilia dell'Epifania. Per il segretario nazionale dell'Associazione dei consumatori, Francesco Tanasi, non basteranno risollevare le sorti del commercio. Gli acquisti durante il periodo di sconti, sostiene, faranno registrare in Sicilia anche nel 2019 una pesante flessione pari a circa il 9% su anno. Nella nostra regione è prevista una spesa pro capite compresa tra i 110 e i 125 euro. Per le famiglie invece la spesa media ruoterà attorno ai 230 e 260 euro. Nel resto del paese si stima 140 euro di spesa pro capite e 325 euro a famiglia. Almeno un prodotto su tre verrà comprato online. Per Confcommercio Palermo invece la spesa media pro capite sarà sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. Prevediamo, dice la Presidente Patrizia Riddio, una sostanziale tenuta di spesa dello scorso anno, nonostante il clima di fiducia sia peggiorato e si avverte la debolezza della domanda delle famiglie. Le incertezze sulle prospettive economiche ed i segnali di rallentamento del mercato del lavoro stanno determinando ormai da mesi comportamenti molto prudenti in materia di scelte di consumo. Nel complesso il fragile profilo dei consumi colpirà anche gli sconti a causa di una stagione commerciale non positiva. Le vendite di questi prossimi giorni, aggiunge, sono essenziali per cercare di chiudere una stagione commerciale non positiva. Ci aspettiamo che i consumatori approfitteranno anche quest'anno delle vendite a saldo, anche per comprare a costi vantaggiosi. Ipotizzare stime sul giro di affari dei saldi invernali non è semplice, spiega Lillo Vizzini, presidente di Feder Consumatori Palermo. I dati sono stravolti dall'avvento del Black Friday e dal fatto che già dalla fine di novembre i negozi hanno applicato sconti con percentuali alte.